Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione di traffico e mobilità in Toscana in questi minuti a cominciare dall'autostrada. In A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Barberino e Aglio in direzione nord. In A11 rallentamenti e code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e Bio con la 1. In Sipili rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione ingresso città. Siamo al traffico urbano di Firenze relativamente ai cantieri per la tratta tramviaria Fortezza Libertà San Marco. Da quest'oggi i bus tornano a transitare sulle direttrici Colonna Battisti e Arazzieri 27 Aprile in zona San Marco. Al via inoltre il cantiere in via Lapira che comporterà la chiusura da Piazza San Marco a Via della Dogana. Ottero dei dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!